L'ho tenuto, ve lo giuro, l'ho tenuto al telefono 45 minuti e l'ho bastonato con tutti i personaggi dello zoo ed è rimasto lì fino alla fine. Questa è la prima parte, andiamo! E' umano? E' alieno? E' divino? Chi è? E' solido? E' liquido? E' gassoso? Com'è? E' animale? Vegetale? Minerale? Che cazzo è? Che cazzo è? La natura gli ha dato poco. Ecco il poco, se l'hai giocato al videopoker. Il suo nome è Luca. Il suo cognome è Giurato. Il suo peso è 97 kg circa. Il suo significato è zero. Luca Giurato, il paladino nel niente, ha invaso le vostre case. E adesso... Ecco gli. Attenzione! Durante uno dei tanti scherzi telefonici dello zoo di 105, utilizzando la voce di Luca Giurato... Buongiorno, signora, è Luca Giurato. Incappiamo in un personaggio alquanto incredibile. Pronto? Chi è? La mia c***a ti parlo. Però... Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato. La trasmissione è uno pomeriggio. Come sta? Bene, grazie. Bene, signora, senta, io qua ho una scatoletta con un tappo azzurro, è fermato da un elastichino. Dentro è pieno di... Cosa? È pieno di... Di... Non la capisco, è pieno di che cosa. Le dispiace indovinare quante ce ne sono? Cosa? Che cosa? Qua... Il... Mi perdoni, di... Quanto ci sono... Sono proprio così, rincoglionito? No, rincoglionito io, perché io non so davanti a televisione, ha capito? Però... Prego. Ah, ho capito quello che vuoi. Palio, sono in palio, la bellezza di 500.000 guguzze. Alla, dimmi. Brava, brava, brava. Dimmi tutto. Le dispiace indovinare quante ce ne sono? Cosa? 12. Eh, ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare. Che gioco è? Però. Dimmi, che gioco è? Eh... Io non sono davanti a televisione, non ti vedo, eh. Unico del mondo degli stronzi. Unico del mondo degli stronzi sei? Però. Però. Non capisco che puoi essere. Perché io dei stronzi ne conosco tanto, l'unico non lo conosco. Chi è? Torno a ripetere, gli stronzi ne conosco tanti, ma l'unico no. Perché se stai tu sei l'unico del mondo degli stronzi io non lo conosco. Chi è? Perché io ne conosco tanti, ma se dai, se c'è una massa di stronzi, ho altrimenti tanti della vita, no? Non puoi fare. Se mi dai uno spunto posso indovinare. Ditemi la verità. Dimmi. Però. Però. Dimmi, che a me ti piace. Guarda, io dovevo nascere attore. E starti vicino e fare una bella coppia di stronzi. Dimmi. Qua il. Ma di stronzi paraculi. Perché se sei te, sei uno stronzo paraculo. Se non sei te, non so chi sei. Pertanto non ti posso classificare. Però parla. Dimmi. Ma dimmi che le devo dire. Il. Dimmi. E sta lì. Dimmi. Brava, brava, bravo. No, l'uomo. E... Si sei bloccato. Si sei bloccato. Dopo averlo imbarcato per circa 15 minuti, trasforniamo lo scherzo telefonico nel... La super bastardata del giorno. E iniziamo ad attaccarlo con tutte le voci registrate dello zoo. Partiamo da... Selvaman. Vale. Pronto? Ecco, io lo trovo sempre qui. Ma chi sei, scusa? Ho capito io. Si, chi sei? Ho capito. Con chi sto parlando? Io non ho capito neanche io con chi sto parlando, eh? Sei in Italia di chi? Scusa, non ho capito. Allora, io non ho capito con chi sto parlando. Con chi sto parlando io. Io sono qui dal notario, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutta deficiente? Guarda, deficiente, perché avete chiamato. Scusami un attimo. Ma chi sei? Spiegami, dimmi, dammi il cognome. Dimmi dove sei che vengo a farendo, ti pezzo di merda. Adesso, se stai facendo uno scherzo, adesso basta. Perché a me mi è stata fatta. Mi è arrivata una telefonata che mi dice, stai su uno mattino. fino a uno pomeriggio, come si sta prendendo per il culo. Adesso mi incazzo, faccio fare una registrazione telefonica. Adesso, se avete giocato, avete scherzato, smettetela, perché qui stiamo lavorando. Verne schifoso. Ma valla finita. Ma chi sei? Ma tu quali chi sei? Fatti vedere il pezzo di bastardo. Fatti vedere chi sei. Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Ed ora, la seconda parte di... Fai il web designer. La seconda parte di... Grazie. La bastardata del giorno. Ma io ti dico, è possibile che la gente impazzisce in questa maniera? Io... Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei? Io ti ho telefonato. Ma che stavo? Ma che stavo a giocare? Cagliato, ognome brutto, essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere. Ma battena, affan***o, e tutti quei mascalzoni come te che fanno queste cose da beceri e imbecilli, capito? Perché io sono stato disturbato nei miei momenti di lavoro e mi si rompe i coglioni. Ma come fate a vivere questa vita? Io non lo capisco. O forse hanno chiuso i manicomi e vi hanno fatto uscire a tutti, guarda, te lo dico io. Dimmi chi sei? Ma valla finita, ma dimmi chi sei di. Ma vai a cagare, brutto ignorante, e ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, tu, schifoso. Ma dimmi o te chi sei, ignorante, dimmi chi sei. Ma ho capito, scusa? Dimmi chi sei tu, dimmi, perché io non mi permetto di fare certe stupidaggi, hai capito? Ignorante figlio di put***a. Sì, proprio, veramente, no, a Roma si dice più da una c***a, hai capito? Vengo a prenderti, ma vengo a prenderti, tu vieni a dire chi sei. Ma che mai, dimmi o te chi sei. Guarda, se mi dai, colore. Ti vengo a trovare io, oh, ti vengo a trovare io, dimmi chi sei. Parlando di psicologico. Dimmi chi sei. Ma dimmi o te, ignorante. Guarda, se mi dai il cognome, se mi dai il cognome, adesso chiamo con qualcuno in telecom, poi veramente vengo a spaccarti, c***o veramente. Si caga addosso. Ma guarda, scusa, eh, oh, senti, io le cose le ho due. Eh, se stacca al momento, parliamo di persone civili, se stacca al momento io voglio sapere cosa. A me mi è arrivata una telefonata. Seguiti, eh. Però devi seguire il discorso. Perché se sei una persona che ti senti offesa e sei una persona sana, a questo punto parliamo della persona sana. A me mi è arrivata una telefonata in cui mi si è presentato uno che dice, sono Luca Giurato. Sono di... Già cominciai a dire parole stupide, fuori poste e tutto quanto. Poi tutto un botto sei subentrato te. Non ho capito? Scusa? Io sto dicendo, io sono stato, e quello che mi dispiace è che ho risposto, perché me l'hanno passato. Io sono stato due minuti a parlare, a sentire offese che a me, nella vita, non c'è permesso mai nessuno di offendermi. Perché non offendo nessuno? Mi dici, tu come mai sei entrato nella mia linea o se ho entrato io nella tua linea? Yeah! Yeah! Ahia! Non contenti? Utilizziamo la voce. Del signor centro commerciale. Ti senti? Mi dica, signor. Sto spiegando, ho spiegato tutto. Hai cambiato! Mi dica! Ho detto, non so con chi parlo. Ma questo è un centro commerciale! Guardi, che ne so che è un centro commerciale? A me mi hanno telefonato. Mi ha detto, o ti, o chi per ti, o qualcuno che fa uno scherzo senza ricevere le linee. Non lo so, capisci? Ma questo è un centro commerciale! Ma te chi sei? Ma che ne so, io scusa, guarda, io, io da queste cose non so niente. Cerchiamo di attaccare e lasciamo perdere le scuole, perché io sono stato disturbato. Se te dici che è così, sarei stato disturbato pure te, lasciamo perdere, no? Pronto! Dimmi. Ma che cos'è, miagra? Non ho capito. Ma che cos'è, miagra? Ma che cos'è, miagra? Ma non ti capisco, scusa. Che stai dicendo? Non ti capisco. Ma questo è un centro commerciale! Ma io ho capito che mi stai dicendo che c'è un centro commerciale, ma non so come mai questo centro commerciale si è collegato con me. Ma ma... Non so come mai questo centro commerciale si è collegato con me. Ma questo è un centro commerciale! Ti ho capito. E per finire, lo mandiamo knock out con la voce dell'elettrauto. Sì, pronto? Sì! Pronto? Ma scusa, ma sei mai chiamato? Ma perché mi chiami col privato? Non c'è le palle? Ma io faccio gli scherzi. Mi stai facendo paura, dai. Ma voi fate gli scherzi e io gli faccio, dai. Va bene, ascolta, però quando vieni, vieni in tanti, perché se no non mi diverto. Io ti lascio perché so stanco, so sfinito, te state le palle così stupida. Io non lo so chi ha fatto, lo scherzo, chi l'ha fatto? Speriamo che il Padre Deano stanotte si lo ricoglie, eh. Va bene? Se questo sapesse chi sono, non può farmi anche fatto del genere. Ma te ne rendi conto? Dopo l'ultima frase del signore, ho dormito in una vara stanotte con le mani sui coglioni. 45 minuti!